Il concept dell'azienda Lamusani sono da un secolo che si occupa di cerimonia. Noi siamo molto a focus sui tessuti e cerchiamo di selezionare dei tessuti molto più leggeri. Abbiamo inserito soprattutto in collezione gli ultimi due anni delle linee giovani. Una cosa molto importante per noi è soprattutto il discorso delle vestibilità. Noi prima di andare in produzione con un capo viene provato svariate volte. Oserei dire quasi ogni capo per noi come se fosse un capo da sposa, pur essendo un capo da cerimonia. Cerchiamo di dargli un'attenzione certosina. Grazie per la visione!